Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Ci è arrivato questo pacco che siamo andati a prendere all'edicola del mio amico, l'angolo dei capricci che trovate in descrizione dal mio amico Pippo, perché ci ha detto che è arrivato un pacco per noi. Ora lui magari, non sapendolo, potevano essere libri scolastici e cose del genere che gli arrivano anche riviste all'edicola, l'aveva già aperto, ce l'ha riscociata, la bella è meglio perché si è reso conto che dentro, senza dirci niente, c'era un gioco per noi. E ci ha detto che è una cosa che ci farà un sacco piacere, perché, ve l'ho detto, senza saperlo l'ha aperto e tutto quanto, magari senza legge, gli arriva un pacco e ha visto cosa c'era dentro, ed è un pacco che ci hanno spedito a noi. Quindi ora vado ad aprirlo e guardo che cosa c'è all'interno, però già a vedere dalle dimensioni è bello grande. Quindi, almeno che non sia tutto completamente imbottito, con strati di giornale e cose del genere, è bello grosso come pacco, c'ho già un hype disumano. More, mi passi per favore il trincetto che lo apro, perché ecco le mani, ok. Pacco aperto, vediamo cosa c'è all'interno. Vedo che intanto, non voglio vedere, non me lo voglio spoilerare, c'è un'imbottitura della Madonna e c'è una letterina. Caro Babbo Natale, vediamo un po' che non c'è scritto. Ciao, la vista mi si sta abbassando, quindi anche qui l'età incombe. Allora, ciao Coridan, mi chiamo Riccardo, sono di Torino e ti seguo fin dai tempi di Arma RP con Ninja. Per quanto tu abbia cambiato tema al canale, ho continuato a seguirti in quanto sono un appassionato di giochi da tavolo come te. Ben sapendo di quanto tu adori i dungeon crawler, ho deciso di farti... Dungeon crawler, sto già impazzendo. Ho deciso di farti questo piccolo regalino che sono sicuro apprezzerai molto. Ah, è vero, si ricorda il vecchio saluto. Te lo faccio per te Riccardo. E fatela prendere bene il bioccolo. Riccardo, questa la conserviamo a modino, si mette qui da parte. E vediamo che cosa c'è all'interno. Ragazzi, io ho messo la scatola qui in basso per farvi vedere ora sopra che cosa c'è all'interno. L'ho già visto e c'ho veramente un hype della madonna, anche perché è bella piena. Mi tiro soltanto fuori una scatola a caso. Cioè, guardate cosa mi ha mandato. Guerrieri nobili contro la cocatrice di Massive Darkness. Quindi già mi sto mettendo... C'ho un hype della madonna perché era un gioco Massive Darkness che volevo da una vita e non l'ho mai provato. Cioè, vabbè, su Tabletop Simulator, però dal vivo non l'ho mai provato. Ed è, secondo me, il diretto successore perfetto di HeroQuest. Quindi questa è un'espansione perché tutte quante le espansioni di Massive Darkness sono sempre fatte in boxettini così. Boh, questa qui pesa 18 chili. Sorcerer versus Lord Tusk. Ma vabbè, guardate che... Pesa una tonnellata sta scatola. Ora poi si aprono e si guardano cosa c'è all'interno. Per poi passare a... Trogloditi, 22 miniature... Ah, 22 miniature e 13 carte. In quest'arte poi non l'ho visto. I trogloditi. E per concludere che... Non poteva mancare il gioco base. Cioè, sto pazzo... Io spero che fosse usato perché... Soltanto, io non voglio di nulla, però, del listino, soltanto Massive Darkness dovrebbe venire sugli 80 euro, la scatola base. Che tra l'altro è anche fuori produzione perché è un gioco dell'Akmon che, non so se è uscito due anni fa, due o tre anni fa, qualcosa del genere. Però è fuori produzione. È sempre ordinabile, ovviamente, il sito e tutto quanto, però, più che altro, quello che mi ha mandato, se non erro e ripeto ancora, cavolate che lo volevo far tempo e poi mi dimenticai, dovrebbe essere il Lightbringer Pledge. Cioè, dovrebbe essere il Pledge, quello di Kickstarter, che veniva intorno ai 120-130 euro. Te, Riccardo, sei pazzo. Io ti ringrazio da morire di cuore. Ora vi faccio vedere, ovviamente, qualcosina, qualche miniatura e tutto quanto. E ti dirò di più. Prometto che, appena possibile, ovviamente, ci farò anche un unboxing a modino, fatto meglio. Ora ve lo faccio vedere un po' così. Un unboxing fatto bene e vi ci farò anche una recensione, ovviamente. Se il tutorial, perlomeno delle regole, per un'infarinatura, come la dico io, per farvi vedere come funziona. Ma vi prometto che, prima di tutto questo, prima dell'unboxing, recensione e tutto, vi ci farò vedere direttamente una partita. Così, magari, vi vedete una partita per intero e, al momento che vi vado a spiegare le regole, vi rimarranno anche meglio in testa. Quindi, Riccardo, sei un pazzo. Ti voglio bene, davvero, numero uno. E se passi dal Livorno, fammelo sapere, qui nei commenti o su Facebook, dove ti pare a te, fammelo sapere, se passi dal Livorno, sei invitato a cena a casa mia. Per forza. O se va a mangiare a un ristorante, comunque, sei invitato a cena. Veramente, grazie immensamente di cuore, anche perché, cioè, pazzesco. Mi mancava, e ti dico di più, ti ringrazio i 10.000 volte di più, perché un dungeon crawler, a parte Dungeon Alliance, che vi ricordate ci ho fatto il video, mi mancava. Perché avevo, Dungeon Alliance è più fatto con i token in plastica. Invece qui sono tutte pedine, come tutti i giochi dell'Akmon. Sono sempre pianizie di pedine. E non vedevo l'ora di provare un gioco del genere, perché c'ho un hype della Madonna. Sia di Massive Darkness, che di giochi come HeroQuest, Sword and Sorcery e titoli del genere. Quindi, Riccardo, veramente, ti ringrazio immensamente per questo regalo disumano. E spero, veramente, che tutti ci sia svenato, perché, me lo ricordo, dovrebbe essere il Lightbringer, tutto questo. E, insomma, richiedeva veramente un po' di soldi. Vi faccio vedere più o meno cosa c'è dentro. Faccio vedere, tipo, la scatolina Sorcerer's Lord Tusk, che dovrebbe essere un boss disumano. E ci sono, all'interno... Ah, ma forse... Perché vedo c'è anche il mago, con la spada leggermente piegata. Sì, cos'è? Tipo una ladra. Questa sembra tipo una guerrera, una mazzone, qualcosa del genere. Una ladra. E poi, vedete, ci sono anche un po' di mostri all'interno. Ma penso che forse ci abbia messo in una scatola tutte quante le miniature per metterle insieme. Anche perché quelle lì... Cos'era qui? Sorcerer's? A parte Sorcerer's è Vistoria. Però Lord Tusk non c'è. Forse sì, la divisa è un pochino così. Vabbè, le basette, ovviamente, poi le schede dei personaggi. Tra l'altro, anche i disegni che ci sono dietro, ci hanno uno stile. Veramente sono spettacolari i disegni. Fammi vedere alcuni. Sono fatti veramente bene. Andiamo qui, trogloditi. E qui ci sono tutti i mostri grossi. More! Ragazzi, com'è fatto bene, porco mondo! Boia, che spettacolo, com'è fatto bene sto ragno. Posso dire una cosa? Vai, dilla. Mi si sente fuori campo? Sì. Schifo! No, vabbè. La qualità delle miniature, guardala. Guardala com'è fatto bene. Il ragno, poi c'è tipo... Questa sembra una... Come si chiamano i naga? Mi viene? Una medusa. Tipo una medusa, sì. Perché un naga, vabbè, con la coda. Un mirmidone, qualcosa di... No, vabbè. E poi... Aspetta un attimino che non vorrei rompere niente. La cocatrice. Ecco, forse questa era di quell'altra espansione, appunto. Eccola qui, la cocatrice. L'ha messa insieme, l'ha divisa in mostri più grande. Guardate cos'è questo Minotauro. Cioè, questo sembra il classico Tauren di World of Warcraft. Più che altro, ragazzi, guardate veramente. Guardate là il diamine di dettaglio per le miniature. Cioè, ditemi cos'è dipingere le miniature del genere. O anche tipo un fauno. O comunque un diavolo, qualcosa del genere. Come porco mondo sono belli. Vediamo cosa c'è qui dentro. Che sono Guerreri Nobili e la cocatrice. Vabbè, la cocatrice è vista di là. E ci sono 7 miliardi di pedine. Che, se non ricordo male, non vorrei dire una cavolata. Quelli in Massive Darkness in grigi sono i mostri. E tipo giallognolo del colore che avete visto prima. Dovrebbero essere i personaggi. Sì, sì. Comunque un Goblin. Un Orco. Classici mostri un po' del Fantasy. Un Barbaro. Poi la cosa bella è che fra tutta la scatola base e tutto il resto, io penso, ci saranno un centinaio di miniature. Per poi concludere con la scatola base. Che all'interno, penso, forse qui le miniature ce le ho tolte tutte. Però ci sono tutti i tile di gioco. Componibili, ovviamente. E nelle regole di Massive Darkness, poi ve lo farò vedere, zone d'ombra che attivano certi tipi di abilità. E zone di luce che attivano altri tipi di abilità. Si basa tutto su luce e ombre. Questo gioco qui. Più questa scatola con all'interno... Eh sì. Sembrerebbe che le miniature le abbia tutte spostate in altre scatoline. L'abbia fatto bene così. Ha carte del tesoro di livello 1, equipaggiamenti, dadi di gioco divisi per colore. C'è tutto, c'è tutto Riccardo, manca nulla. Che poi stavo vedendo, qui c'è. In questa scatola qui, che è praticamente quella dei nobili guerrieri e coccatrice, ci sono tre nuovi eroi più la coccatrice. In quest'altra qua giù, invece, sono dodici guerrieri, sei guerrieri. Vabbè, qui sono tutti i mostri, più il Minotauro. Mentre invece, in quest'altra c'era... Lord Tusk, più tre eroi. Quindi per la maggior parte sono eroi. E poi tutti i mostri, sì, sì. Se uno va a far conto di una osanata, c'è quasi tipo... Se non sono cento mostri, saranno ottanta. Veramente spettacolare. Io ti ringrazio di cuore, veramente da morire, Riccardo. Te l'ho detto, veramente. Tu passassi mai da Livorno, fammelo sapere, perché si va per forza. C'era insieme, mi hai fatto un regalo disumano in un gioco che volevo da tantissimo tempo. E sicuramente, perché lo sapete, l'ho sempre detto, Il mio genere preferito sono i dungeon crawler. Non per forza fantasy. Ad esempio, Deep Madness è un horror sci-fi. Oppure anche tutta la serie di zombie side. Io le adoro, per quanto più lì è più ammazzare Lorde. Però, io le adoro veramente da morire. Dio benedica chi ha inventato HeroQuest e il genere. E davvero, Riccardo, ti ringrazio di cuore. E giuro, prometto che quanto prima ci registriamo un video gameplay e ve lo portiamo. Quindi, grazie davvero di cuore. Ti ringrazio, Bioccolo. E grazie davvero, Riccardo, per questo bellissimo regalo. Di più, apprezzatissimo. Davvero di cuore. Grazie. Ciao ragazzi, alla prossima.